La Corte dei Conti ha bacchettato le regioni per come hanno gestito l'emergenza sanitaria e in particolare l'assistenza territoriale per cui il decreto agosto aveva stanziato 734 milioni di euro. Nel Mirino c'è anche Regione Lombardia, come sottolinea Marco degli Angeli, consigliere del Movimento 5 Stelle. La Regione Lombardia è stata bocciata completamente in quanto non è stata in grada di attuare tutte quelle misure che avrebbero dovuto scavare la prima trincea da contrapporre al virus. E in particolare Corte dei Conti rivela il fatto che manca completamente un piano di recupero per quanto riguarda le liste di attesa, quindi migliaia e migliaia di ricoveri saltati, interventi chirurgici rinviati senza una data e questa è una grave mancanza. Inoltre anche le USCA e gli infermieri di famiglia che dovevano essere implementati non sono stati implementati e questo è gravissimo. Stupisce poi la decisione della S7 di Cremona di sospendere alcuni infermieri del pronto soccorso dell'olio podi Casal Maggiore proprio in piena emergenza Covid. I nostri medici, i nostri infermieri sono obbligati da mesi a lavorare incessantemente senza tregua e in questo periodo la direzione generale, io non entro nel merito delle sospensioni, però credo che non stia facendo una cosa corretta. In un periodo come questo sostendere delle persone dal mio punto di vista è gravissimo anche perché mette in difficoltà, mettono in difficoltà tutti i colleghi che devono poi sopperire con i turni. Una situazione che riflette i problemi di una sanità che sembra prediligere il privato al pubblico. Si è pensato piuttosto a rafforzare quello che è il rapporto con le aziende sanitarie private invece che investire sui presidi territoriali. Le colpe arrivano da lontano e questo Covid sta smascherando e sta facendo venire al pettine tutti i nodi che noi stavamo contestando ormai da anni. Grazie a tutti.